La guerra per il Donbass sarà ricordata come una delle più violente in Europa, ha detto il presidente ucraino Zelensky, che aggiunge il costo umano delle battaglie di Severodonetsk è terrificante. Infatti si combatte per ogni metro nell'est dell'Ucraina, lo scontro sul campo si fa sempre più spietato, tutti i ponti che collegano Severodonetsk alle retrovie ucraine sono stati distrutti e i filorussi minacciano arrendetevi o morirete tutti. Impossibile far arrivare alcun tipo di rifornimento, mentre 500 tra militari e civili, 40 dei quali sarebbero bambini, sono bloccati nella fabbrica di Azot, circondati dalle truppe di Mosca, che invece sostengono che all'interno ci siano solo nazionalisti. I russi avanzano, anche se ancora lentamente, anche nella regione di Kharkiv. Sul fronte diplomatico la Russia accoglie con favore i sforzi di mediazione della Santa Sede nel conflitto in Ucraina. Intanto la stampa riporta un estratto della conversazione che Papa Francesco ha tenuto con i dieci direttori delle riviste della Compagnia di Gesù. Tra loro Antonio Spadaro, responsabile di Civiltà Cattolica, che racconta come proprio il Santo Padre gli avrebbe confidato che due mesi prima del conflitto un capo di Stato gli aveva detto che il comportamento dell'Alleanza Atlantica rischiava di scatenare quello che è successo. Dall'Europa arrivano conferme del viaggio previsto per giovedì a Kiev del premier italiano Draghi, del presidente francese Macron e del cancelliere tedesco Scholz e sarebbe in programma un incontro con Zelensky che chiede alla Germania di dimostrare chiaramente il suo sostegno all'Ucraina senza cercare di continuare a preservare i suoi rapporti con Putin. Ancora bucia, ancora una fossa comune che l'esercito russo, secondo le denunce del governo ucraino, si è lasciato alle spalle ad aprile nella ritirata dal nord del paese. I corpi sono sette, sepolti nella foresta, mani legate e segni di tortura. L'ennesimo orrore in questa cittadina violata dalla guerra. Dopo domani il premier Draghi, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Scholz vedranno a Kiev Vladimir Zelensky. È la missione diplomatica più importante dall'inizio del conflitto. Anche perché il giorno seguente la candidatura dell'Ucraina all'Unione Europea dovrebbe ricevere il via libera formale da Bruxelles. Ai partner Zelensky non chiede però soltanto solidarietà. L'Occidente non cerchi un compromesso con Mosca, ha detto Andriy Yermak, uno dei consiglieri del presidente. Ora ci servono armi pesanti e addestramento per le truppe. La battaglia nel Donbass pare sempre più vicina a un punto di svolta. Fra Siviro Donetsk e Lissichansk, l'esercito ucraino si trova in una sacca. Migliaia rischiano di finire prigionieri, esattamente come è accaduto a Mariupol. Due fiumi li separano dalla resa, il fiume Bilienka e il Danetsk, linee di difesa naturali che stanno rallentando l'avanzata russa. Stremate e militarmente sovrastate, le forze ucraine hanno ripreso a colpire con violenza Danetsk e altri piccoli centri sotto il controllo dei ribelli. Proiettili di artiglieria contro mercati, ospedali, edifici pubblici, dicono le autorità del posto. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state cinque, fra loro anche un bambino.